Bene, buongiorno e benvenuti anche quest'anno. Quest'anno abbiamo al centro degli Stati Generali la proposta del Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni, un programma per la transizione alla Green Economy, una proposta che verrà fatta alle forze politiche e anche ai candidati in vista delle prossime elezioni. Cosa ci proponiamo, cosa si propone il Consiglio della Green Economy con questa iniziativa? Due obiettivi, il primo è fare entrare i temi della Green Economy nel dibattito e nel confronto della prossima campagna elettorale. Vogliamo che questi temi siano più presenti. E poi puntare ad avere un Parlamento, il nuovo Parlamento, più attento alle tematiche della Green Economy. Ovviamente cominciamo, le esponiamo oggi, approfitto per ringraziare i rappresentanti delle forze politiche intervenute, cominciamo oggi a esporre e a fare una prima discussione su questo programma, ma il confronto proseguirà anche dopo, perché ci serviranno degli approfondimenti con delegazioni del Consiglio Nazionale che si svilupperanno dopo gli Stati Generali. Ovviamente noterete che oggi è un po' impostato sulle politiche nazionali, non perché trascuriamo la dimensione europea e internazionale, che invece sarà il centro della discussione di domani mattina, in particolare una riflessione sul nuovo contesto mondiale che mette a confronto le politiche dell'Unione Europea, quelle degli Stati Uniti, stante il passaggio alla nuova amministrazione Trump, che qualche piccola preoccupazione, diciamo così, magari la può suscitare, e anche il terzo polo di questo confronto è il citato gigante cinese che si sta facendo passi appunto da gigante sulla via della green economy e punta alla leadership della green economy globale. Non è che semplicemente vuole recuperare un gap ambientale, punta alla leadership tecnologica commerciale della green economy su scala globale. e lo fa dichiaratamente. Il consenso della green economy, se ne faceva cenno, non parto dalla ricerca che abbiamo fatto noi, ma da un servizio della stampa che mi ha colpito dalla scorsa settimana. Il titolo era gli italiani stanno diventando ecologisti, è la miseria. e poi vai a vedere le domande e il livello delle risposte, francamente c'è un consenso sulle tematiche green, veramente è una novità. E bisogna registrarle, bisogna capire cosa, come sta cambiando la società italiana. Io penso che centri molto la crisi climatica e forse anche una maturazione di esperienze, diciamo, diffuse. Fatto sta che, secondo la stampa, il 93% degli italiani, sono percentuali insoliti, ritiene importante la salvaguardia dell'ambiente, molto e abbastanza, e ritiene pericolosa la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che lo preoccupa molto. Noi abbiamo invece indagato con Demetra, coordinati da Chetty Vaccaro del Censis, che ringrazio, un'indagine più mirata sulle tematiche della green economy. E abbiamo visto che il 58% dei cittadini è informato sulle problematiche della green economy, il 70% attribuisce importanza alle politiche pubbliche per la green economy, quindi ritiene che per sviluppare la green economy servano in politiche pubbliche, il 90% è favorevole a misure per tutelare il capitale naturale e alle infrastrutture verdi, il 70% acquisterebbe prodotti biologici anche se costassero il 10% in più, 9 cittadini su 10 sono favorevoli a misure per il clima e l'energia e consumerebbero energia solo rinnovabile anche se costasse di più. Sono numeri veramente altissimi. 3 cittadini su 4 sosterrebbero il divieto di vendere auto a gasolio e benzina a partire entro 10 anni. 8 cittadini su 10 vorrebbero misure per intervenire sugli sprechi idrici circa quasi il 90% condivide la proposta di multare chi non fa la raccolta differenziata. Non vi dico tutte le domande e tutte le risposte le trovate sulla relazione sullo stato della green economy che vi è stata distribuita. Ne ho scelte solo alcune. Anche la green economy è ritenuta un elemento trainante per lo sviluppo locale. Fra i principali driver dello sviluppo locale insieme alle attività legate al turismo l'imprenditoria giovanile la filiera e quelle di successo quella agroalimentare ben prima dell'ICT ben prima dei servizi ben prima della manifattura o dei settori tradizionali. Ormai è diventato senso non dico comune ma ampiamente condiviso che la green economy abbia elevate potenzialità di sviluppo. La prima proposta programmatica se questo è il quadro. Beh ciascuno di noi penso che senza ricorrere ai dati che citava Antonio Cianciullo si rende conto che c'è un gap da colmare fra come queste tematiche sono considerate poi vedremo che peso hanno anche a livello delle imprese e dell'economia reale e il livello di priorità nell'agenda politica. La prima richiesta è inserire la transizione alla green economy fra le priorità dell'agenda parlamentare e di governo. Non l'attenzione l'attenzione c'è ma fra le priorità. Per queste tre ragioni la green economy nasce dalla consapevolezza delle sfide della nostra epoca. L'economia funziona quando è in grado di trasformare le grandi sfide di affrontarle e di trasformarle in opportunità della crisi climatica della limitatezza delle risorse disponibili della necessità di un benessere di migliore qualità più esteso ed inclusivo. ma come veniva giustamente sollecitato dalla sindaco di Rimini la green economy non è solo una vision è un percorso di cambiamento in grado di proporre soluzioni impegnative certo non è una passeggiata ma praticabili dei principali problemi con i quali ci dobbiamo confrontare. Questo è il nodo. inoltre la transizione alla green economy consentirebbe di valorizzare le potenzialità dell'Italia da tempo sosteniamo che l'Italia è un paese vocato alla green economy poi vedendo le tematiche strategiche forse riesco a concretizzare un po' meglio questo concetto ma la green economy è un modo per valorizzare le potenzialità dell'Italia percorrendo l'unica via di sviluppo oggi possibile cominciamo la prima tematica energia e clima strategica per varie ragioni e qui sappiamo che dopo l'accordo di Parigi abbiamo tutti bisogno di accelerare il passo purtroppo l'Italia sta rallentando nel 2015 il 17,5% dei consumi soddisfatto da rinnovabili era un buon target raggiunto nel 2015 il target era fissato al 2020 quindi certamente l'Italia non era in coda non è in coda ma negli ultimi quattro anni gli investimenti nelle rinnovabili elettriche sono dimezzati da 3,6 miliardi a 1 da 3,6 nel 2013 a 1,7 nel 2016 la produzione di elettricità da rinnovabili è in diminuzione da 3 anni 121 TWh nel 2014 108 nel 2016 c'è un ulteriore calo del 5% nei primi 8 mesi del 2017 è chiaro che è un grande peso l'idroelettrico c'è una variabilità dell'idroelettrico piuttosto spinta tuttavia attenzione che questa variabilità rischia di diventare strutturale con la crisi climatica e noi abbiamo un'incidenza così forte di questa variabilità perché nel 2017 il solare è cresciuto ma non abbastanza e l'eolico si è fermato biomasse stagnanti eccetera quindi capite che qualche allarme dobbiamo averlo i consumi di elettricità come vedete hanno ripreso a crescere e l'intensità carbonica che è questa poi che noi dobbiamo tenere d'occhio cioè i grammi di CO2 per ogni kilowattora sono passati da 309 era un livello basso nel 2014 a 330 nel 2016 e i dati dei primi 8 mesi del 2017 indicano un ulteriore peggioramento ovviamente questo ha incidenza sulle emissioni globali ho parlato solo del settore elettrico di gas serra dal 990 al 2014 l'istaglia è stata abbastanza virtuosa ha calato le emissioni del 18 6 per cento nel 2015 comincia un po' di ripresina le emissioni tornano a crescere nel 2016 hanno un leggero calo e le proiezioni del 2017 abbiamo confrattato queste valutazioni anche con una recente pubblicazione dell'Enea l'enericente della settimana scorsa e concordiamo sul fatto che nel 2017 tendano ad aumentare le emissioni di gas serra dopo un lungo periodo di continue riduzioni nel 2015 e nel 2016 i consumi di energia sono tornati ad aumentare nel 2015 è stato conseguito un target del 40% dei riduzioni di consumi energetici ma con il trend attuale il target al 2020 non si raggiungerebbe seconda proposta programmatica quindi è fare della sfida climatica l'occasione per rinnovare il sistema energetico rilanciando le rinnovabili e l'efficienza energetica l'Italia è uno dei paesi più esposti ai rischi del cambiamento climatico non ho tempo per dimostrare questa affermazione ma vi assicuro che autorevole istituti scientifici ormai questo punto l'hanno riconosciuto noi possiamo chiedere un maggior impegno europeo e internazionale per il clima se facciamo in prima fila la nostra parte accelerando il passo come è necessario per l'accordo di Parigi oltre a questo abbiamo anche un interesse strategico a ridurre la dipendenza dei combustibili fossili per rispettare la traiettoria dell'accordo di Parigi l'Italia dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 per arrivare oltre l'80% al 2050 e quindi ha bisogno di raddoppiare il contributo delle rinnovabili e di ridurre i consumi di energie del 40% rispetto allo scenario tendenziale è vero che in tariffa A3 è stato caricato parecchio però non possiamo pensare che si possa emettere carbonio gratis dato l'impatto che ha il carbonio sul clima e i danni che sta producendo quindi occorre un fondo nazionale per la transizione energetica che si è alimentato da forme di carbon pricing come stanno facendo altri paesi per esempio la Francia compresa una carbon tax progressiva da associare a meccanismi di compensazione a tutela della competitività e da una graduale riallocazione dei sussidi dannosi per l'ambiente così come sono stati ben individuati da uno studio fatto molto bene che ha recentemente pubblicato il ministero dell'ambiente le raccolte differenziate e le avvio al riciclo continuano a crescere questo è senz'altro un buon segno l'Italia è un paese riciclone ha fra le performance migliori a livello europeo la raccolta differenziata anche se ha cambiato il metodo di calcolo l'ISPRA è sulla base di un decreto del governo ha raggiunto il 52,5% il riciclo dipende dal metodo di calcolo col metodo 4 ha raggiunto il 42,2% diverse regioni italiane superano il 60% ve ne sono ancora però almeno 4 Sicilia Molise e Calabria che fanno da fanalino di coda mi date un po' d'acqua la Lombardia e il Friuli grazie e il Veneto hanno già in discarica il 4% si discute del 10% a livello europeo purtroppo abbiamo Molise il 90% grazie la Sicilia l'80% la Calabria il 58% la Puglia il 48% è vero che la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo hanno raggiunto dei livelli eccellenti per esempio gli imballaggi sono il 67% dell'immesso al consumo l'obiettivo europeo vigente è il 55% la raccolta della frazione organica è cresciuta e derivata a 6 milioni e mezzo di tonnellate anche i RAE sono cresciuti a 235 mila tonnellate anche se è il 31,8% dell'immesso al consumo ed è ancora lontano dagli obiettivi europei del 45 al 2016 e del 65 al 19 però la forte crescita delle raccolte del riciclo non è non sono accompagnate da corrispondenti sbocchi di mercato con difficoltà per alcune filiere segnatamente plastica e carta e la produzione dei rifiuti urbani anche se qui c'è il dato un po' falsato perché è cambiato il metodo di calcolo però ha ripreso a crescere del 2% nel 2016 cioè più del PIL terza proposta puntare sull'economia circolare che come sapete è un pilastro fondamentale della green economy per superare il modello lineare di spreco ad alto consumo di risorse che non ha futuro occorre recepire rapidamente in modo efficace il pacchetto di direttive rifiuti economia circolare e perseguendo il pieno raggiungimento dei nuovi target europei occorre fare di più per la prevenzione va migliorata sia la riciclabilità dei prodotti ma anche il mercato delle materie prime e seconde dei beni riciclati non si possono raggiungere i target sfidanti del nuovo pacchetto europeo se non si recuperano i ritardi di quelle regioni che ho citato prima perché purtroppo l'aritmetica non è un'opinione gli smaltimenti tramite incenerimento o discarica dovranno diventare effettivamente residuali e limitati solo agli scarti non riciclabili dei processi di selezione di riciclo è necessario rafforzare la responsabilità estesa dei produttori e applicare sull'intero territorio nazionale tariffe puntuali le città italiane le città italiane sono un grande motore della green economy la green economy può essere un grande agente di trasformazione per le città italiane anche qui non è che partiamo da zero 80 dei capoluoghi di provincia italiana hanno aderito al patto dei sindaci anche se solo 25 hanno assunto obiettivi di riduzione importanti di gas serra numerose città adesso ci sarà oggi una sessione dedicata hanno attivato progetti di rigenerazione e di ricalificazione in chiave green anche il piano nazionale di riqualificazione delle aree urbane degradate il cosiddetto bando periferie ha attivato un numero di processi di progetti importanti in 120 città per un importo impegnativo di 2,1 miliardi molti di questi progetti sono di buona qualità green ma il posizionamento che abbiamo sulla qualità green dell'innovazione delle nostre città in Europa non è adeguato usiamo come termine di riferimento questo premio European Green Capital Award della Commissione Europea dal 2010 nessuna città italiana ha mai vinto ma non è neanche mai entrata fra i finalisti questo è un segnale d'allarme che dobbiamo cogliere abbiamo delle potenzialità potremmo fare molto di più quarta proposta programmatica quindi attivare un piano nazionale per la rigenerazione urbana supportato con gli strumenti e gli indirizzi della green economy abbiamo proprio bisogno di attivare percorsi diffusi di rigenerazione delle città che oltre che bloccare il consumo di suolo proprio in chiave green economy introducono diciamo una circolarità nella gestione delle risorse urbane con recupero manutenzione riqualificazione e rilancio in chiave sociale di miglioramento della qualità sociale urbana ed economica e questa è la rigenerazione urbana di cui abbiamo bisogno abbiamo anche una strumentazione ormai tecnica di elevato profilo utilizzabile e disponibile serve dare un impulso in questa direzione con un piano nazionale che dia seguito migliori e rafforzi lo stesso bando periferie ovviamente con adeguati finanziamenti sarebbe bene anche attivare strumenti economici e fiscali che favoriscono le iniziative dei cittadini non solo l'utilizzo adeguato di risorse pubbliche nelle città italiane circolano ancora troppe auto e auto troppo inquinanti e ce ne siamo accorti i mesi scorsi ovviamente l'Italia è fra i cittadini accorti abbiamo avuto di nuovo dei segnali d'allarme i mesi scorsi in particolare nelle città della pianura padana l'Italia è fra i paesi europei con il più alto numero di decessi prematuri annuali causati dall'inquinamento atmosferico 1300 per milioni di abitanti più della Germania che ne ha mille più del Regno Unito 800 e della Francia 700 non dico che non siano migliorate le tecnologie sono migliorate ma il numero di auto per abitante è il più alto in Europa con oltre 600 autoveicoli ogni mille abitanti più del 90% sono diesel e benzina l'Italia ha un basso livello di immatricolazione di auto elettriche anche se un po' meglio va nelle ibride che sono al 2% nel 2016 e mantiene un buon livello di quella a metano e a GPL nelle maggiori città italiane buona eccezione Milano la quota di spostamenti casa lavoro con trasporto pubblico sharing e mobilità ciclopedonale è notevolmente più bassa di quelle delle altre principali città europee quinta proposta quindi far cambiare direzione alla mobilità urbana occorre ridurre il numero delle auto private circolanti favorendo un'accessibilità diffusa ai vari servizi integrati di mobilità ai mezzi condivisi e pubblici alla sharing mobility all'integrazione fra ciclabilità e pedonalità bisogna invertire come è stato cominciato a fare di recente l'ordine della priorità negli investimenti pubblici nelle infrastrutture in favore della mobilità urbana sostenibile con particolare attenzione al trasporto rapido di massa nelle aree metropolitane bisogna per poter rispettare i livelli di sicurezza indicati dall'OMS arrivare al divieto di immatricolazione per auto diesel e benzina al 2030 nella transizione si potrà puntare anche sui veicoli ibridi a gas e soprattutto promuovere con maggiore decisione l'elettrificazione con l'utilizzo di elettricità da rinnovabili e l'utilizzo di biocarburanti avanzati fra i quali sono da segnalare le potenzialità del biometano cresce l'agricoltura biologica e di qualità le superfici coltivate col biologico in Italia hanno raggiunto 14,5% della superficie agricola l'Italia è il secondo esportatore biologico al mondo il primo sapete fra gli Stati Uniti sono un pochino più grandi però nell'Italia l'Italia è in testa anche per i prodotti agroalimentari certificati con ben 27,5% del totale europeo davanti alla Francia la superficie agricola totale però è diminuita negli ultimi 20 anni del 24% e attenzione anche agli eventi climatici estremi siccità e alluvioni che stanno recando danni rilevanti alla nostra agricoltura l'utilizzo delle risorse forestali si assesta su una media molto bassa in Italia 25-35% dell'incremento annuo a seconda del metodo che si usa per fare questo calcolo a fronte di una media europea intorno al 65% sesta proposta programmatica assicurare lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile di qualità e multifunzionale nel mercato globale l'impiego di sostanze non sicure fa crescere la preoccupazione per la salute occorre accorciare le filiere agroalimentari e valorizzare le produzioni locali occorre promuovere e tutelare l'agricoltura italiana orientata alla qualità e alla sicurezza occorre preservare le aree agricole i pascoli e il patrimonio forestale occorre supportare la gestione attiva anche del patrimonio silvopastorale come dicevo prima il peso rilevante delle imprese della green economy in Italia e questo ho già fatto cenno è una indagine che abbiamo fatto nel 2015 ed è anche per una piacevole conferma il 42% delle imprese italiane ma per necessità di sintesi non vi riassumo tutti i settori sono collocabili nella green economy core green cioè quelle che producono beni e servizi di elevata qualità ambientale ormai il 27,5% non è un numero anomalo è la media dei paesi industriali maturi 24-26% e il 14,5% sono go green cioè sono imprese che adottano anche pur avendo produzioni tradizionali processi produttivi di elevata qualità ambientale sono distribuite in tutti i settori quindi la settima proposta è promuovere l'elevata qualità ecologica quale fattore decisivo per il successo delle imprese italiane ci sono già sono una realtà consistente in crescita bisogna ovviamente puntare su quello che hai di meglio attenzione prioritaria quindi delle politiche pubbliche alle imprese che producono beni e servizi di qualità ecologica e anche i settori produttivi più tradizionali nell'adozione di processi industriali sempre più puliti passi avanti ne sono stati fatti parecchio nell'abbattimento delle emissioni di gas serra e nell'uso efficiente delle risorse la circular economy non è solo gestione di rifiuti ma soprattutto una visione complessiva dell'economia dei processi produttivi sia di produzione che di consumo occorre indirizzare meglio la digitalizzazione al centro del programma industria 4.0 per dare impulso alla green economy con particolare attenzione alle piccole medie imprese serve una riforma della fiscalità in chiave green per accompagnare il mercato verso processi prodotti e servizi a basse emissioni ad alta efficienza nell'uso delle risorse riallocando le agevolazioni dannose per l'ambiente l'Italia dispone di un ingente capitale naturale sottoposto a rilevanti pressioni sia dal consumo di suolo e anche dagli incendi due cose che vogliamo segnalare uno dei paesi più ricchi di biodiversità negli ultimi 60 anni la superficie forestale nazionale è triplicata tuttavia nel 2012 gli incendi in Italia hanno dal 2012 una media di 38.000 ettari è preoccupante il dato del 2017 con questo balzo a 135.000 ettari di boschi già bruciati il consumo di suolo è passato dal 2,7 negli anni 50 8.000 chilometri quadrati al 7,6 23.000 chilometri quadrati è vero che sta rallentando il ritmo annuale del consumo di suolo dell'incremento del consumo però dal novembre 2015 maggio 2016 dati Ispra le nuove coperture artificiali hanno riguardato ancora altri 50 chilometri quadrati di territorio poco meno di 30 ettari al giorno ancora troppo quindi l'ottava proposta tutelare e valorizzare il capitale naturale i servizi ecosistemici come asset per la qualità del nostro benessere e il futuro dell'economia l'Italia è anche un paese che ha il più consistente capitale culturale storico architettonico questi due capitali naturale e culturali dovrebbero essere tutelati e valorizzati in maniera integrata perché riguardano molto l'attrattività del sistema paese non solo il turismo ma che è pure molto importante ma in senso più ampio questi due capitali di importanza straordinaria vanno tutelati aumentando la consapevolezza dei cittadini delle imprese e anche delle pubbliche amministrazioni ovviamente il consumo di suolo va fermato occorre anche una maggiore diffusione di strumenti volontari innovativi l'Italia è fortemente esposta come sappiamo tutti ai rischi sia di siccità che di alluvioni in periodo dell'anno diversi e purtroppo questi due rischi non sono in contrasto fra loro l'estate 2017 è stata la seconda più calda dal 1800 con due gradi e mezzo sopra la media con un ammanco di pioggia del 40% rispetto al periodo 71-2000 nel 2015 è andato disperso questo è paradosso il 38 28,2% dell'acqua potabile immessa nelle reti di distribuzione anche perché il 22% delle condotte ha più di 50 anni circa 2 milioni di italiani sono esposti a pericolosità elevata di alluvioni e altri 6 milioni a pericolosità media tra l'80 e il 2015 l'Italia ha subito danni il calcolo dell'Agenzia europea per 65 miliardi a causa di eventi climatici estremi danni più ingenti subiti da un paese europeo negli ultimi anni le alluvioni si sono più frequenti con 13 alluvioni significative importanti dal 2009 al 2015 quindi la nona proposta programmatica e mi avvio a concludere investire nella gestione delle acque per assicurare una risorsa strategica per eliminare gli sprechi e ridurre i rischi di alluvioni bisogna migliorare l'efficienza negli usi delle acque bisogna assicurare una buona distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano per tutti e in tutto il paese rinnovare e riparare le reti idriche e minimizzare le perdite occorre promuovere un più esteso riutilizzo delle acque derivanti sia dalla depurazione che di quelle sottoposte a interventi di bonifica il rischio di alluvioni va affrontato con una gestione del territorio aggiornata al nuovo contesto climatico e con interventi di prevenzione più rapidi e incisivi abbiamo anche buone pratiche di prevenzione e buone progettazioni diffondiamo anche queste buone pratiche l'impegno pubblico per l'ecoinnovazione rimane troppo basso la spesa per ricerca e sviluppo ai fini ambientali è diminuita del 5,8% nel 2015 rispetto al 2014 a fronte di un aumento dell'8,7% nell'eurozona nella spesa in ricerca e sviluppo per l'ambiente pro capite siamo scesi al decimo posto in Europa con investimenti così bassi la capacità di eco-innovazione del nostro sistema industriale che pure è un fattore molto importante per noi rischia di divenire compromessa decima proposta le politiche pubbliche nella green economy hanno un peso ovunque in tutti i paesi del mondo occorre renderle più efficaci la transizione alla green economy le richiede impegnative e coerenti riforme maggior impegno nelle amministrazioni pubbliche che devono operare a tutti i livelli con maggiore celerità ed efficacia il settore pubblico deve diventare un riferimento per le buone pratiche le migliori tecniche e i migliori standard le pubbliche amministrazioni vanno qualificate e rafforzate mobilitando e valorizzando le professionalità e le risorse migliori occorre rendere verdi tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni usando al meglio la riforma del codice degli appalti compresa la seconda modifica riconoscendo anche i costi come previsto e i benefici ambientali nella valutazione delle offerte più vantaggiose per affrontare le sfide di questa transizione occorre un maggior impegno nella ricerca pubblica nella formazione scolastica universitaria del supporto tecnico alla implementazione e diffusione dell'eco innovazione in conclusione la consapevolezza delle sfide della nostra epoca l'importanza decisiva della transizione alla green economy per affrontarle e l'impegno per le misure necessarie oggi più che mai sono i criteri fondamentali per valutare la qualità delle proposte politiche del fatto che siano all'altezza dei tempi o siano invece inadeguate grazie per la vostra attenzione